dunque cominciamo a vedere i circuiti a scatto si tratta quindi di circuiti non lineari il più semplice dei quali è il comparatore vediamo come è fatto il comparatore è un circuito che ha un ingresso differenziale quindi attenzione vi differenziale in ingresso tra due nodi e un'uscita invece tipicamente riferita a massa si usa lo stesso simbolo che si usa per l'amplificatore e adesso vediamo perché in pratica che cosa fa il comparatore essenzialmente ci dà il segno della V cioè ha una risposta come si dice una caratteristica di trasferimento cioè una tensione V in funzione della tensione V che idealmente è fatta così come al solito guardiamo prima come si comporta un circuito ideale e poi vediamo cosa avviene nella realtà un comparatore ha una risposta di questo tipo quindi ha un'uscita alta e un'uscita bassa questa è una risposta ideale e quindi facilmente si può scrivere in questo modo V è uguale a VH se V è maggiore di 0 oppure VL se V è minore di 0 l'uguale non è importante tanto è una pratica che matematicamente ha un senso ma è una pratica l'uguale non esiste va bene quindi mi dice in pratica in base al valore dell'uscita che può essere uno di due possibili se il segno è positivo o negativo va bene questo è un comportamento ideale nella pratica com'è che si ottiene il comparatore? si ottiene con un circuito in qualche modo simile il circuito più semplice che si può realizzare per ottenere un comparatore è quello che si chiama comparatore semplice questo è il comparatore ideale se volete il comparatore semplice è fatto così c'è effettivamente un amplificatore operazionale quindi che ha una tensione di alimentazione per esempio più VCC anzi questa la posso chiamare VH e VL sono le due tensioni di alimentazione questa qua è la VI l'uscita dell'operazionale la chiamo VOP rispetto a massa e poi in aggiunta a questo spesso si usa anche un limitatore ottenuto con due diodi Zener e l'uscita la prendiamo qua vedete in pratica invece del comparatore ideale ho un operazionale più un limitatore questo è un limitatore perché questo è un limitatore vedete il funzionamento immaginate che il diodo Zener abbia una tensione Zener cioè una tensione di breakdown pari a UZ quando alla serie dei due diodi è applicata una tensione VZ più Vγ o che i due diodi conducono perché mi serve VZ per far condurre il diodo che è in diretta e Vγ anzi Vγ per far condurre il diodo che è in diretta e VZ per far condurre il diodo in inversa se c'è una serie contrapposti una in diretta e una in inversa quindi se ho una tensione almeno VZ più Vγ che chiamiamo V0 i due diodi conducono se ho meno V0 conducono nell'altra direzione se ho una tensione inferiore non conducono perché la tensione non è sufficiente a mandarli entrambi in conduzione quando i due diodi conducono ricordate i circuiti fatti con gli Zener quando uno Zener conduce o il diodo conduce la tensione rimane V0 quindi viene bloccata a più V0 oppure a meno V0 va bene quindi vediamo com'è fatta la caratteristica di trasferimento la caratteristica di trasferimento è la curva di VU in funzione di VI di V0 Allora ci conviene prima disegnare VOP, VOP è fatto così, è una tensione che è pari alla tensione di ingresso amplificata, quindi ha questa pendenza A per VI, poi a un certo punto quando l'uscita raggiunge la tensione di alimentazione vi ricordate che è un'operazionale satura. Lo stesso quando raggiunge la tensione di alimentazione inferiore satura anche in basso, quindi vedete assomiglia un po' a quella caratteristica ideale, l'unica differenza sostanzialmente è che la transizione non è brusca tra il tratto negativo e il tratto positivo ma ha una pendenza finita. Nella pratica l'amplificatore operazionale avrà una pendenza molto grande, perché se quella A è 200.000, come spesso nei casi che abbiamo visto noi, è chiaro che la transizione è quasi immediata. In aggiunta c'è questo limitatore e questo limitatore mi riduce ancora la transizione, perché se vedete, quando VOP è più basso di V0, che è la tensione minima per mettere in conduzione tutti e due i diodi, qui corrente non ne passa e quindi l'uscita e quindi l'uscita è pari a VOP, perché corrente in R non passa, quindi questa tensione è uguale a questa. Quindi abbiamo questo andamento. Quando l'uscita invece, questa è la VOP, quando la VOP raggiunge V0, che cosa succede? Che i diodi cominciano a condurre e quindi questa tensione non sale più, rimane V0. Quindi qui, vedete, satura prima, satura al valore V0, durante questo intervallo, invece segue la VOP e di nuovo, per tensioni negative, quando la tensione sull'operazionale raggiunge V0, satura di nuovo. Va bene? Quindi vedete, il limitatore che cosa fa? Fa ridurre ulteriormente la zona in cui l'uscita non è alta o bassa. Va bene? Notate che se, per esempio, A vale 200.000 e V0 è 5V, la tensione V, fino alla quale la curva è una retta, è 5V diviso 200.000. che fa 10uV. D'accordo? Quindi, comunque questo tratto, ora l'ho evidenziato per farvelo vedere, ma è molto molto piccolo. Basta una tensione piccolissima per andare su o giù. Quindi, in realtà, è abbastanza simile rispetto al comportamento del comparatore ideale. Allora, che caratteristiche hanno gli amplificatori operazionali che si usano per fare comparatori? Ecco, di solito hanno due caratteristiche principali. Per discuterle, pensate un attimo. Quando voi adoperate l'amplificatore operazionale in un filtro o in un oscillatore, come abbiamo visto finora, o in un amplificatore, come abbiamo visto finora, voi utilizzate l'amplificatore operazionale esattamente come amplificatore. Cioè, come circuito lineare. Avete l'uscita proporzionale all'ingresso. Infatti, avete visto, usavamo la trasformata di Fourier per studiare il comportamento, che è chiaramente una cosa che si usa solo se il sistema è lineare. Quindi, si usava in questa zona il funzionamento dell'amplificatore. In un comparatore, l'amplificatore operazionale funziona preferibilmente nella zona in cui l'uscita è piatta, che è la zona non lineare. Bene, quindi il circuito è funzionalmente lo stesso, ma viene usato in due modi diversi. L'amplificatore operazionale, per fare circuiti lineari, viene utilizzato in zona lineare, quindi nel tratto in cui l'uscita è proporzionale all'ingresso. E quando viene usato come comparatore, viene usato nella zona piatta. Ecco, quando viene usato come comparatore, quindi, si privilegia il fatto che sia veloce, rispetto al fatto che abbia una bella funzione di trasferimento, polo dominante. Per cui, di solito, si usano amplificatori operazionali non compensati. Questa è la prima differenza. Quindi, un amplificatore operazionale specializzato per l'uso in un comparatore, tipicamente è un amplificatore operazionale non compensato, con una banda larga, ma ha una funzione di trasferimento che non è a polo dominante. L'altra cosa, che è importante, è che si usa, per fare un comparatore, un amplificatore operazionale con bassa tensione di offset. Dunque, io credo di non avervi mai raccontato che cos'è la tensione di offset. Vediamo di dirlo adesso. La tensione di offset è una delle non idealità di un amplificatore operazionale. che cosa succede? Un amplificatore operazionale con amplificazione finita ha una funzione di trasferimento di questo tipo. Questo non è già neanche ideale, ma insomma è una cosa che finora abbiamo visto. Sappiamo che sappiamo di avere. In realtà, un amplificatore operazionale reale, venduto in commercio, ha una funzione di trasferimento abbastanza diversa. Tipicamente ha una funzione di trasferimento così. Cioè, ha lo stesso comportamento, però il punto in cui attraversa l'asse delle ascisse, la funzione di trasferimento non è l'origine, ma è spostato. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che per avere uscita nulla, non devo avere ingresso nullo nella pratica, ma devo avere un ingresso diverso da zero. Il valore della tensione di ingresso che si deve applicare per avere l'uscita nulla è appunto quello che si chiama tensione di offset d'ingresso. Si chiama, si indica con V, I, O, che sta V input offset, quindi è questa quantità qui, ed è un numero casuale, cioè non un numero, una grandezza casuale, che mediamente vale zero, però esemplare per esemplare ha una certa distribuzione intorno allo zero. D'accordo? Quindi ha una grandezza che ha una distribuzione. Perché? Che cos'è? Beh, in pratica è una cosa indesiderata. A che cosa è dovuta? È dovuta al fatto che, se vi ricordate, il primo stadio di un amplificatore operazionale è uno stadio differenziale. Lo stadio differenziale mi dà l'uscita nulla se l'ingresso è esattamente nullo e si basa tutto sul fatto che le due parti dell'amplificatore differenziale siano esattamente identiche. Vi ricordate, abbiamo visto insieme che l'amplificatore operazionale ha come ipotesi, alla base del funzionamento, il fatto che sia costituito di due parti esattamente simmetriche, due parti uguali. In realtà le parti non sono veramente uguali mai e quindi c'è una leggera differenza per cui quando metto una tensione di ingresso nulla l'uscita non viene nulla. Ho bisogno di applicare, di controbilanciare un po' la differenza tra le due parti e applicare una tensione di offset diversa da zero per avere l'uscita nulla. Va bene? È chiaro il discorso? Quindi, invece di avere due gambe simmetriche, una più corta dell'altra, devo mettere una soletta. Di fatto, tensione di offset serve a compensare la differenza tra le due regioni. E chiaramente, poiché questa differenza è una cosa casuale, dovuta al fatto che vengono diversi i transistori nel circuito, il segno della tensione di offset è casuale, anche l'ampiezza è casuale. Di fatto, io tipicamente ho soltanto informazione statistica e mi viene data la 3 sigma. Il valore medio è nullo, mi viene data la 3 sigma, cioè tre volte la differenza di standard, per avere un'idea di quant'è ragionevolmente il massimo della tensione di offset che posso ottenere. Di questo bisogna tenerne conto, finora non ne abbiamo parlato, perché quando si lavora in zona lineare non è importante. Non ha nessun effetto significativo, cioè è raro che possa avere un effetto significativo la tensione di offset. In questo caso, invece, chiaramente se voglio, come dire, usare questo amplificatore in un comparatore, è chiaro che la tensione di offset mi dà fastidio, perché se il segnale di ingresso è piccolo, immaginate che la V di offset sia più grande dell'ampiezza del segnale di ingresso, e a quel punto il comparatore non funziona più. D'accordo? Non scatta mai. Ok? Quindi questo è un concetto abbastanza semplice. Come si schematizza un amplificatore operazionale che ha un offset? Di solito si schematizza in questo modo. si schematizza come uno ideale più si aggiunge in ingresso un generatore di tensione pari alla tensione di offset. Quindi questo è l'amplificatore operazionale ideale e invece questo qui è come dire, come se fosse questa scatolona, no? Questo qui è l'amplificatore operazionale con offset V, I, D, O. Infatti, vedete che torna alla definizione. Quando io applico dal disegno che ho fatto qui delle caratteristiche di trasferimento, quando io applico al generatore reale una tensione V, I, D, offset, l'uscita viene nulla. Infatti, anche qui, quando applico al generatore reale una tensione uguale alla V, I, D, offset, la V, I, O, in ingresso a quello ideale ho una tensione nulla e quindi l'uscita è nulla. Quindi io se voglio capire qual è l'effetto sul circuito di un offset del generatore basta che prenda il circuito considerando l'amplificatore ideale e ci aggiunga un generatore di tensione di offset. L'aggiunta di quel generatore mi dà lo stesso effetto che considerare l'amplificatore con un offset. Va bene? Allora, ripeto, da qui si capisce bene che in un circuito lineare quel generatore costante non fa niente, non altera le funzioni di trasferimento, non cambia granché nulla, quindi non ha un'importanza significativa ed è il motivo per cui finora l'abbiamo trascurato. Se ce lo metto non mi danno a un filtro, non mi fa niente. È molto fastidioso invece per un comparatore e quindi si cerca in un comparatore di scegliere operazionali con bassa tensione di offset. In generale costa ridurre la tensione di offset perché bisogna fare un circuito un po' più complesso che sia più robusto rispetto a queste variazioni oppure va fatto con una precisione maggiore. Spesso basta farlo più grande per farlo più preciso. Quindi, se lo faccio più grande riesco a fare più simmetrico il tutto. chiaramente però tutto questo si riflette poi nel costo. Va bene. Allora, a che serve un comparatore? Cosa ho fatto? Ho saltato un altro corso. A che serve un comparatore? Che ci si può fare con questo? Ma in realtà diverse cose. Per esempio è facile misurare una frequenza di un segnale. Ci sono mille applicazioni tante applicazioni di logica poi si possono fare una volta che uno ha uno più comparatori. Per esempio, se io qui ho un segnale sinusoidale e voglio misurare la frequenza di questo segnale una cosa che posso fare è prendere questo segnale e mandarlo all'ingresso di un comparatore. Quindi metto qua un comparatore anche semplice va bene. Quindi che cosa succede? Se qua in ingresso ho un'onda sinusoidale immaginiamo che la WS sia fatta così Allora la V U è fatta così cambia segno mi dà il segno di WS trascuriamo per il momento l'offset quindi sarà fatta così sarà alta qui qui sarà bassa qui di nuovo alta così quindi dalla sinusoide ho ottenuto l'onda quadra adesso cosa posso fare? Posso cercare dall'onda quadra di ottenere una serie di impulsi tutte le volte che comincia un periodo per fare questo come posso fare? Beh per ottenere l'impulso da un'onda quadra basta usare un filtro passa alto vedete un filtro passa alto RC mi dà un picco in salita quando ho la transizione verso l'alto e un picco in discesa quando ho la transizione verso il basso se voglio prendere solo le transizioni verso l'alto basta fare in modo che le transizioni verso il basso siano inibite dalla presenza di un diodo verso il basso non ci va questo nodo perché comincia a condurre il diodo e impedisce che il segnale vada in basso quindi se io mi metto qua qui VU2 vedo una cosa del genere vedo che qui c'è la transizione quindi ho un andamento verso l'alto qui c'è la transizione un andamento verso l'alto qui c'è la transizione un andamento verso l'alto qui c'è la transizione un andamento verso l'alto Va bene, questi tratti in discesa sono esponenziali con costante di tempo rc, i tratti in salita sono praticamente istantanei. E poi cosa faccio? Quindi ho una serie di impulsi, devo semplicemente contarli. Quindi qui mi metto un contatore che conta gli impulsi. Quindi se conto gli impulsi in un certo tempo d'osservazione, in un certo tempo prefissato, so quanti periodi ci sono nel tempo prefissato e quindi so qual è la frequenza dell'oscillazione, la frequenza del segnale. Quindi per esempio questo è un modo semplice per misurare la frequenza di un segnale. Va bene, d'accordo? Allora, quella soluzione di comparatore che abbiamo visto finora non è in realtà la soluzione più adoperata, perché vedete c'è un vantaggio a realizzare un comparatore con i steresi. Vediamo di che si tratta. Il comparatore con i steresi si chiama anche Trigger Dschmidt. Vediamo di che si tratta e poi cerchiamo di capire perché è utile. Come è fatto il comparatore con i steresi? È un circuito appena più complicato, c'è da aggiungere un paio di resistenze. Vedete, quindi aggiungiamo queste due resistenze R1 e R2 che non c'erano nel comparatore semplice. E poi per comodità invertiamo anche il segno dell'amplificatore. In questi circuiti abbiamo solo R1 e R2 in più rispetto a prima. Vediamo cosa cambia. Allora, per vedere cosa cambia facciamo riferimento alla caratteristica di trasferimento. Allora, e partiamo da correnti, la tensione è molto bassa. Immaginiamo che V sia molto molto bassa e qui la tensione vale più o meno V0, dove V0 è VZ più Vγ. Questo comportamento già l'abbiamo visto prima. È bloccata VZ più Vγ. Non può andare sopra V0, non può scendere sotto V0. V più è una partizione della tensione che c'è qui, quindi anche V più sarà limitata da V0 o meno V0 per il fattore partizione, che è minore di 1. Quindi se io prendo V abbastanza grande, lo faccio venire da qui, vedete, se V è basso, l'ingresso del comparatore è positivo, perché la tensione sul meno è più bassa della tensione sul più e quindi l'uscita è alta. Se l'uscita dell'operazionale è alta, allora la corrente circola in questa direzione, i due di odi conducono e VU vale più V0. Quindi io parto da qua. Allora, quando VU vale più V0, quanto vale V più? Si vede bene che qui, siccome l'ingresso dell'operazionale non entra corrente, V più è sempre una partizione di V. In particolare, il rapporto di partizione è R1 diviso R1 più R2 per V. Questa cosa, per somiglianza a quello che abbiamo visto con il circuito precedente, con i sistemi di reazioni, lo chiamiamo beta, anche se il sistema non è un sistema di reazione, perché dobbiamo tenere presente che l'amplificatore operazionale sta funzionando in regione non lineare. Quindi non abbiamo un sistema lineare e quindi non ha senso parlare di sistema in reazione. Dunque, quindi V, banalmente, se V è uguale a V0, allora V più è uguale a più V0 per beta. Perché mi interessa dire quanto vale V più? Perché se adesso V più vale beta V0, lo segno, no? Lo segno qua. Finché VI è più piccolo di V più, l'ingresso dell'operazionale è negativo, l'uscita è alta e quindi V vale V0. Quindi, fin tanto che rimane questa condizione, cambiamo colore per farvi vedere, fin tanto che l'ingresso VI è più piccolo di beta V0, l'uscita rimane esattamente a V0. Quindi il tratto viene percorso in questo modo. Se vengo da qua. Quando V arriva a più V0, che cosa succede? Eh, vedete, commuta l'amplificatore. Quindi, ecco qui, magari vale la pena di soffermarsi un attimo. Immaginate che V più sia questa, V è in basso, no? Finché V, questa è V più, finché V è più piccola di V più, l'uscita è alta. Che V è sul meno, quindi l'ingresso dell'operazione è positivo e l'uscita è alta. Quando VI raggiunge quasi V più e l'amplificatore operazionale rientra a funzionare in zona lineare, a quel punto l'uscita cala. Vabbè, comincia a scendere dal valore massimo. Quando l'uscita comincia a scendere dal valore massimo, anche V più scende perché è una partizione dell'uscita. E quindi, quando questo sale, questo improvvisamente comincia a scendere, finché le due si invertono. Nel momento in cui si invertono, l'uscita va bassa e questo scende di botto. D'accordo? Inizia questo meccanismo per cui, quando si avvicina l'ingresso, la tensione d'ingresso a V più, V più comincia a scendere e facilita la commutazione. D'accordo? Quindi, questa qui, questa transizione, avviene molto velocemente. Da qui si va velocemente giù perché c'è questa situazione di, ecco, in questo caso di reazione vera e propria, perché se VI arriva al punto di aver quasi raggiunto V più, il sistema torna in zona lineare e quindi a quel punto ha senso parlare di reazione. C'è questo meccanismo di reazione, la reazione rende il sistema stabile perché ho un ritorno sul più e quindi viene accelerata la commutazione. Quindi, l'uscita va verso il basso e arriva al valore, a che valore vuole andare? Va al valore meno V0. Se comin continua a aumentare, chiaramente a questo punto, se V è uguale a meno V0, V più sarà uguale a meno V0 per beta. Quindi sarà qui. Quindi la tensione dell'ingresso più è qui, la tensione dell'ingresso meno è ancora alta, quindi l'uscita ovviamente è bassa. Quindi questo è il ramo che si percorre. Va bene? Ora, la cosa... Quindi che cosa è successo? Chiaramente, avendo tirato la V più su al valore beta V0, la commutazione si ha per l'ingresso uguale a beta V0. Tutto qua. Diciamo, è come se in un... Beh, non è proprio uguale, ma insomma, guardando la caratteristica, è come se in un comparatore semplice avessi spostato verso l'alto la soglia di commutazione. Ora, la cosa interessante che succede, si vede andando verso il basso, facendo scendere V. Perché se faccio scendere V stavolta, V viene confrontata con V più, ma V più vale meno beta V0. D'accordo? Quindi finché V è maggiore di V più, l'uscita rimane bassa. Quindi quando torno indietro succede questa cosa strana, che se comincio a percorrere questo tratto indietro, quando arrivo qui, il ramo continua in questa direzione, perché la commutazione si ha soltanto quando la tensione d'ingresso scende sotto meno beta V0. A questo punto abbiamo lo stesso fenomeno di prima. Si sposta la soglia in direzione opposta alla V, quindi facilita la transizione, e bruscamente il sistema torna su. Quando torna su, la soglia si sposta perché V è andato a più V0, quindi V più va a più beta V0, e a questo punto quindi l'uscita per forza è alta. Chiaramente adesso la tensione sul più è ben più alta e la tensione sul meno. D'accordo? Quindi, e quindi, diciamo, questo tratto si può percorrere anche in questa direzione. Quindi vedete cosa c'è? C'è un anello interno e ci sono due tratti più esterni. I due tratti esterni all'anello si possono percorrere in tutte e due le direzioni. I tratti di questo anello interno, di questo ciclo interno, si possono percorrere soltanto nel senso segnato dalle frecce. Questo qui si chiama ciclo di isteresi. E in realtà la differenza tra le due soglie diverse che ci sono in salita e in discesa si chiama isteresi. Cioè, in questo caso, quindi, l'isteresi è 2 beta per V0. In generale, comunque, l'isteresi è la differenza tra le soglie nella transizione verso l'alto e nella transizione verso il basso. Quindi, il comparatore semplice non aveva esteresi o non vi ho fatto il ragionamento pianocano, però se avessimo un percorso da basso verso l'alto e viceversa saremmo passati esattamente dallo stesso punto. Il trigger di Schmidt, invece, ha un'isteresi perché ci sono due soglie verso l'alto quando V sale e quando V scende. Le due soglie ci sono perché la V più dipende dal valore dell'uscita. Vedete, noi possiamo in realtà modulare l'isteresi perché l'isteresi dipende da beta. Più piccolo è beta, più piccola è l'isteresi. Quindi, per esempio, nel fare un trigger di Schmidt e progettare un trigger di Schmidt un'attenzione particolare bisogna metterla nello scegliere il valore dell'isteresi e perché non è una quantità che possiamo lasciare al caso. Va bene. Allora, innanzitutto a che cosa serve? Abbiamo visto che cos'è. Ora, a che cosa serve? Vediamo un po' quali sono gli effetti dell'isteresi. Dunque, il primo effetto è un effetto positivo ed è il fatto che ha una commutazione più veloce. Ok? Con l'isteresi ho una commutazione più veloce ed è legato al fatto che la soglia si sposta quando c'è la commutazione quindi mi aiuta a ottenere la commutazione più veloce. Ok? Quindi, la soglia V più si sposta durante la commutazione in modo da accelerarla e questa è una cosa positiva l'altra cosa che è una cosa in realtà negativa è che l'isteresi mi dà un ritardo nella commutazione l'isteresi causa un ritardo ora, questo non è proprio immediato da vedere però guardiamolo un secondo insieme con disegno veloce se io ho un segnale immaginate di avere un segnale sinusoidale sinusoidale vi va bene e guardiamo com'è fatta la tensione d'uscita se io non avessi stesi avrei le commutazioni esattamente in corrispondenza degli attraversamenti dello zero giusto? per il comparatore semplice avrei esattamente questo tipo di comportamento va bene quindi come sarebbe fatta l'uscita sarebbe fatta così alto vabbè non la faccio non la faccio perché mi complica però avrei avuto una commutazione a ogni attraversamento va bene se ho isteresi invece la cosa è un pochino diversa perché ho due soglie e devo indicarle qua immaginiamo di esagerare un pochino e faccio un'isteresi particolarmente grande per farvi vedere l'effetto immaginiamo che questa qui sia beta v zero col più e che beta v zero col meno sia questa ripeto sto esagerando perché voglio amplificare un po' l'effetto e farvelo vedere anche nel disegno allora che cos'è che succede? vi ricordate com'è la situazione? che quando faccio quando la v va verso l'alto la soglia è beta v zero quella più alta quindi questa è una soglia 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 quando vado verso il basso invece la soglia è meno beta v zero quindi che cosa succede? quando faccio la prima commutazione la faccio qua invece di farla a zero la faccio un pochino dopo quando devo fare la seconda invece di farla dove ho il tratteggio nero a zero la faccio un pochino dopo quando devo fare la terza vedete? mi viene qua la quarta ovviamente mi viene qua la quinta mi viene qua la sesta mi viene qua e così via si capisce no? qual è il punto? in realtà ho un ritardo perché la commutazione avviene sempre un po' dopo sempre un po' dopo dello zero sia in salita sia in discesa ed è un ritardo tanto più grande quanto più grande è l'esteresi l'esteresi nulla il ritardo sarebbe nullo più aumenta l'esteresi più il ritardo un altro effetto che ho è di minore sensibilità al rumore e questa è una cosa positiva quindi questa è una cosa positiva ok perché ho minore sensibilità al rumore cerchiamo di capirlo e questo vi devo fare un esempio si vede meglio allora immaginate avere un segnale rumoroso esagero di nuovo un po' con il rumore per farvi vedere l'effetto immaginiamo che la vi stia attraversando lo zero però abbia un sacco di rumore questo è un segnale praticamente fatto così va bene aspettate lo rifaccio un po' quindi un forte rumore questo rumore dà molto fastidio perché se ho un comparatore lineare tutti quegli attraversamenti per lo zero mi causano una commutazione vedete io qui mi trovo ad avere un primo attraversamento qua e poi con cambio di segno vedete poi me ne trovo un altro qua e poi subito dopo in un'altra direzione poi un altro qua poi un altro qua e poi facciamo che questo non ci sia allora cosa mi trovo ad avere come come risultato di un di una comparazione che qua ho una prima commutazione e poi si risale poi qui c'era un'altra e poi si risale poi qui c'era un'altra e poi si risale poi qui c'era un'altra e poi non si sale più va bene ho fatto un po' storto ma avete capito questa è l'uscita non vuoi questa è la v questo è quello che avrei con un comparatore semplice a rigore di termini è chiaro che va bene però cerchiamo di ricordare qual è la funzione che deve avere immaginate quella che abbiamo visto all'inizio che voglio contare gli attraversamenti dello zero è chiaro che il segnale sta passando una volta sola per lo zero no quindi dovrei avere una transizione per contarne una sola e qui me ne vengono tante chiaro che vengono tante perché invece lui conta tutte le volte che il rumore fa passare la vi da zero no me ne conta 4 anzi 3 in realtà ce ne ho avuto solo una me ne conta 3 in più ne avrei avuto solo una verso il basso e lui me ne conta 3 verso il basso e 4 verso il basso e 3 verso l'alto per esempio nel circuito di prima avrei contato 3 attraversamenti sì avrei contato 4 attraversamenti mentre invece ce n'è stato solo uno ok perché viene risolto il problema invece con un circuito con isteresi perché se io ho un circuito con isteresi è una situazione diversa ho una soglia qui e questo è beta v zero e poi ho una soglia qua quindi che cosa succede quando il segnale parte dal basso fuori dalla zona di isteresi la soglia è quella alta giusto? quindi il segnale fin qui non scatta zero non scatta scatta qui va bene? in questo punto viene attraversata la soglia quando viene attraversata la soglia quindi ho la transizione quindi il segnale e la tensione di uscita faccio così la tensione di uscita era alta mi riesce olè era alta quando c'è la transizione va verso il basso al momento in cui c'è la transizione nella soglia si sposta a meno beta v zero quindi a questo punto questo rumore e questi attraversamenti qua non mi danno più noi perché finché non scendo sotto meno beta v zero la commutazione non c'è e quindi il segnale rimane così va bene? chiaro il discorso? perché ripeto stavolta per far commutare l'uscita dall'alto verso il basso l'ingresso deve superare più beta v zero ma per farla commutare dal basso verso l'alto deve superare verso il basso l'ingresso meno beta v zero quindi cosa devo fare? se l'isteresi è più grande dell'ampiezza del rumore il rumore non mi dà noia ok? quindi notate qui in questa figura si vedono tutte e due quelle caratteristiche che abbiamo detto prima no? cioè c'è un ritardo nella commutazione si vede bene che con isteresi abbiamo ritardo però c'è molto meno sensibilità al rumore e questa è una cosa positiva in generale com'è che ci si comporta? si cerca di fare siccome questo in generale è l'aspetto più importante dell'isteresi è il motivo per cui si usa cosa si fa in generale? si cerca di fare l'isteresi non sufficientemente grande da rendere insensibile rispetto al rumore la commutazione quindi abbastanza grande da essere maggiore dell'ampiezza picco picco massima del rumore di modo che nelle commutazioni non mi dia incertezza non più grande di tanto perché a quel punto non ho più vantaggio nel renderlo ancora una volta che è insensibile al rumore questo vantaggio non c'è più l'accelerazione l'accelerazione e la commutazione più o meno l'ho già ottenuta a quel punto ho soltanto ritardo se aumento ancora l'isteresi ho soltanto ritardo in più e quella è una cosa negativa c'è un altro effetto negativo dell'isteresi che mi fa perdere sensibilità in generale questo è un aspetto negativo cioè se ho un'isteresi più grande dell'ampiezza del segnale io non vedo niente non commuta mai il comparatore d'accordo quindi diciamo l'isteresi mi dà una perdita di sensibilità e un ritardo e quindi la metto solo al minimo valore ragionevole per rendere il sistema robusto rispetto al rumore ok chiaro il punto bene allora che ci possiamo fare con un comparatore con i steresi possiamo fare per esempio un generatore d'onda quadra generatore di onda quadra in pratica è un oscillatore mi dà una tensione periodica per essere precisi un'onda quadra ed è un oscillatore non lineare perché si basa su un circuito a scatto se vedete è fatto semplicemente prendendo un generatore con i steresi che ridisegno qua e poi prendendo l'uscita e riportandola all'ingresso attraverso una capacità e una resistenza vedete in pratica questo blocco qua è il comparatore con i steresi l'uscita deve andare tra più v0 e meno v0 dove v0 è vz più vgamma e vediamo come funziona il blocco rc ho sbagliato il disegno scusate ho fatto un errore sul disegno ho scambiato di posto la resistenza e la e la capacità questa è la capacità e questa è la resistenza anche qui allora perché vi disegno a parte la resistenza e la capacità perché vedete in pratica la tensione di uscita vale v0 oppure vale meno v0 e quindi io qui ho vu che vale più o meno v0 e qui chiamiamo per esempio vc la tensione sulla capacità che è uguale alla tensione che c'è sul meno come varia vc vc avrà sempre un andamento esponenziale in un transitorio no? se la tensione d'uscita v è alta allora la tensione vc si carica a tensione più v con una costante di tempo tau uguale r per c un circuito con una resistenza e una capacità si sa come sono fatti i transitori quindi possiamo avere un transitorio verso l'alto che ha come asintoto più v0 e costante di tempo rc se invece v vale meno v0 la tensione vc avrà un transitorio verso il basso con costante di tempo r per c e asintoto meno v0 quindi siccome v può valere o più v0 oppure meno v0 le possibilità sono due quindi o esponenziale con asintoto alto oppure esponenziale con asintoto basso allora una volta fatta questa considerazione facciamo un disegno delle tensioni su alcuni nodi del circuito in particolare vediamo la tensione sul nodo di uscita quella sul nodo più chiamiamola v più e quella sul nodo meno che abbiamo chiamato vc proviamo a disegnarle tutte e tre tutte e tre vuole spegnere sì questo dobbiamo studiare transitori quindi bisogna come al solito prendere delle condizioni iniziali immaginiamo che all'istante zero la capacità sia spenta sia scarica quindi diciamo che vc sia qui poi anche sull'uscita dobbiamo fare un'ipotesi supponiamo che sia alta questa valga più v zero e quindi v più che è la partizione di v sarà beta v zero quindi questi sono i punti di partenza va bene allora vc è uguale a v meno che cosa succede in questa situazione se vc è zero e la v u è alta abbiamo detto la tensione sulla capacità si carica con andamento esponenziale fino a raggiungere più v zero quindi facciamo la tratto sottile questo perché poi vedrete che ci sarà uno scatto quindi il percorso non sarà affatto tutto però vc tenderà a fare questa esponenziale con costante tempo rc e asintoto diciamo che questo qui sia l'asintoto lo traccio con una retta diciamo che l'asintoto sia questo più v zero quindi aspettate cancelliamo un pochino queste va bene quando però la tensione sulla capacità raggiunge la soglia che è beta v zero tracciamola così allora che cosa succede? qui c'è la commutazione perché a questo punto la tensione sul meno ha raggiunto la tensione sul più e quindi l'uscita commuta verso il basso quindi fino a questo punto che cosa è che succede? la tensione sulla capacità non percorre tutto il tutto l'esponenziale perché percorre questo primo tratto l'esponenziale ha costante di tempo rc e tende a più v zero ma quando finisce questo primo tratto abbiamo una commutazione questo vuol dire che la tensione d'uscita sarà fatta così e poi qui commuta e va a finire a meno v zero e la tensione quindi beta v zero sarà fatta così sarà alta fino a questo punto ma qui poi passa al valore negativo come cambia segno v cambia segno anche beta v ovviamente va bene? dunque quindi siamo qua allora facciamo tracciamo qua anche la soglia meno beta v zero e qui tracciamo quindi la retta che corrisponde a v zero questo ci serve come riferimento no? la retta che corrisponde a v mi fa prendere il punto e quella vabbè quella non la faccio sembra che mi stia bloccando allora quindi l'uscita va bassa a meno beta v zero ora che cosa succede a questo punto la tensione sulla capacità siccome l'uscita vale meno v zero comincia al transitorio a scaricare giusto abbiamo visto prima e la si scarica con la costante tempo r per c e va all'asintoto meno v zero quindi disegniamo un attimo l'assintoto meno v zero vediamo che se è questo e questa comincia a scaricarsi con la costante di tempo di prima per arrivare a meno v zero in realtà le cose finiscono prima perché in questo punto vedete la tensione supera verso il basso la nuova soglia quindi in questo punto c'è per forza una nuova commutazione d'accordo quindi in questo istante abbiamo una commutazione verso l'alto e anche la soglia che è la beta per v quindi diventa commuta ugualmente quindi questo di nuovo cosa vuol dire che della parte in discesa in realtà viene in percorso soltanto un tratto relativamente breve perché a questo punto la tensione torna verso l'alto e quindi comincia ora insomma avete capito cos'è che succede comincia la transizione verso l'alto che si ferma però qui perché qui di nuovo abbiamo una commutazione e così via vedete in pratica questo andamento si ripete in modo perfettamente periodico e quindi continua in modo indefinito va bene non c'è bisogno di insistere più di tanto non si capisce a questo punto siamo ritornati al punto di partenza della prima commutazione verso il basso e qui si continua senza soluzione di continuità va bene allora quello che può essere interessante adesso per noi una volta capito il meccanismo vedete è un segnale periodico un'oscillazione nota con una costante di tempo che dipende da un sacco di fattori perché dipenderà con un periodo che dipende da un sacco di fattori che dipenderà dalla velocità delle costanti di tempo chiaramente più è veloce la carica e la scarica più breve il periodo dipende da dove sono posizionate le soglie e da dove sono posizionati gli asintoti va bene in questa situazione è molto particolare tutto è perfettamente simmetrico ma non è una cosa necessaria allora quello che vorrei fare adesso è far due conti per farvi vedere come si fa a ricavare il periodo quindi noi abbiamo questo punto questo punto e questo punto chiamiamoli TA TB e TC e cerchiamo di ottenere questi due periodi la differenza TB-TA e la differenza TC-TA dunque facciamo il calcolo è facile perché tra TA e TB la noi che cosa abbiamo abbiamo che la tensione sulla capacità prende questo asintoto parte da beta V0 tende ad andare a meno V0 e si ferma quando raggiunge meno beta V0 quindi questa funzione noi conosciamo tutto possiamo studiare la funzione e ricavare la distanza tra quei due intervalli di tempo quindi come è fatta questa espressione scriviamolo per T compreso tra TA e TB la tensione sulla capacità VC di T come sarà fatta un modo utile per ricavarlo è quello di scrivere l'espressione generica e poi imporre i valori dei coefficienti con le condizioni che si conoscono quindi l'espressione generale qual è? c'è una squadra VC il transitorio sarà un esponenziale con costante di tempo VC e una costante va bene? quindi noi dobbiamo come avete fatto studiare i transitori avremo A per E alla meno T su RC più B la forma generale della risposta al transitorio sarà questa perché c'è un sistema con una resistenza e una capacità ok? per ricavare quali sono A cosa sono A e B bisogna imporre le due condizioni che si conoscono cioè si sa che VC all'istante TA vale beta V0 e poi si sa che il limite per T che tende a infinito di VC di T è meno V0 perché l'asintoto a cui tende è meno V0 quindi si sanno quelle due condizioni e da quelle due condizioni si possono ricavare A e B facciamolo dunque come funziona vedete quando e io basta che sostituisca VC di TA devo sostituire TA al posto di T quindi ho che A per E alla meno TA su RC più B è uguale a beta V0 e poi l'altra condizione il limite per T che tende a infinito di VC quanto fa? quando T tende a infinito l'esponenziale tende a 0 e quindi il limite è semplicemente B quindi B è uguale a meno V0 e da questo posso ricavare se B la sostituisco sopra posso ricavare A A è uguale a V0 per 1 più beta che moltiplica E alla TA su RC scrivete l'espressione l'ho trovata facilmente quindi di conseguenza posso scrivere l'espressione completa per VC di T o VC di T uguale a V0 per 1 più beta per E alla meno T meno TA su RC più V0 anzi meno V0 perché devo scrivere più B B uguale a meno V0 di questa è l'espressione in l'espressione dell'esponenziale ok vabbè adesso abbiamo bisogno di calcolare vogliamo calcolare il periodo quindi noi vogliamo vedere che distanza 3 c'è tra T B e T A e noi dobbiamo usare l'informazione che conosciamo cioè noi sappiamo che all'istante T B VC vale meno beta V0 vedete torniamo un attimo indietro all'istante T B che è questo l'esponenziale si è scaricato fino a valere meno beta V0 e con questa informazione noi possiamo ricavare quanto vale T B perché lo scriviamo a posto di VC sostituiamo questa espressione di sopra viene V0 per 1 più beta per E alla meno a posto di T mettiamo T B quindi T B meno T A fratto RC meno V0 e da qui possiamo ricavare T B meno T A vedete tutto il resto è noto possiamo ricavare T B meno T A che quindi la durata della semionda negativa dell'onda quadra ok facciamolo viene dunque porto V0 di là mi viene V0 per 1 meno beta uguale a V0 per 1 più beta posso semplificare per V0 cioè togliere V0 dappertutto quindi mi viene 1 meno beta diviso 1 più beta uguale a E alla meno T B meno T A fratto RC e quindi T B meno TA viene uguale al logaritmo anzi a RC per il logaritmo di 1 più B beta diviso 1 meno beta va bene quindi come dicevo prima il suo semiperiodo è funzione della costante di tempo ed è funzione della di beta che è quindi la soglia va bene ho nella parte torno un attimo indietro nella parte in salita ora non c'è bisogno di fare il calcolo perché vedete è tutto perfettamente simmetrico passo da meno beta V0 a più beta V0 l'asintoto ha cambiato di segno la costante di tempo è lo stessa è la stessa quindi mi aspetto di ottenere esattamente la stessa cosa questo vuol dire che quel TB meno TH che ho trovato è anche mezzo periodo è T mezzi se T è il periodo grande questo qui lo chiamo T grande e questo qui è T mezzi il circuito è perfettamente simmetrico quindi i due le due semionde sono esattamente uguali quindi questo è uguale anche a T mezzi e quindi vedete posso scrivere T uguale il periodo uguale a quell'espressione prima di scrivere la parte T uguale a 2RC per il logaritmo naturale di 1 più beta fratto 1 meno beta allora come vi potete immaginare quando si fa la progettazione le cose vanno nella direzione opposta cioè si sceglie prima cioè viene richiesta come specifico viene richiesta come specifica per esempio il periodo a quel punto uno sa il periodo deve scegliere il circuito che genera onda quadra con quel periodo e quindi deve conoscendoti di dimensionare rc e beta allora questo è il circuito che ci fa ottenere un'onda quadra come si dice ecco se vogliamo ottenere un'onda rettangolare un'onda rettangolare che cos'è è un'onda non simmetrica in cui le due semionde hanno una durata differente quindi l'onda rettangolare è quando le semionde hanno durata diversa ecco in quel caso bisogna rendere asimmetrica la carica e la scarica ok bisogna rendere asimmetrica la carica e la scarica per esempio tornando un attimo indietro per rendere asimmetrica carica e scarica si potrebbe guardando il circuito anzi no guardiamo questa parte di circuito si potrebbe usare una costante di tempo diversa per la carica e per la scarica vengono certamente diverse le semionde oppure usare soglie diverse per l'alto e il basso cioè non uguali in modulo e diverse solo per il segno oppure usare asintosi diverse d'accordo? basta rendere asimmetriche le le due fasi quindi si possono scegliere soglie diverse per carica e scarica oppure costanti di tempo diverse oppure asintoti diversi sono tutte cose che funzionano poi vedete un po' negli esercizi noi spesso usiamo cose un po' vediamo come dire rendendo asimmetriche le cose o le soglie o le costanti di tempo o gli asintoti si possono fare diversi vediamo un esempio tanto per capire un pochino meglio cosa si può fare ad esempio se vogliamo rendere diverse diversi gli asintoti cosa semplice è far così facciamo il trigger di smith un modo per rendere asimmetrici gli asintoti è quello di mettere qui una tensione non nulla mettiamo qua una tensione vr perché gli asintoti vengono a essere diversi perché vedete in pratica il circuito che mi da v più è fatto così ho qui v più qui c'è r1 che va verso vr e qui c'è r2 che va verso v quindi se applichiamo la sovrapposizione degli effetti v più è uguale a r1 per vr più r2 per v diviso r1 più r2 quindi per come abbiamo scritto le cose se r1 divise r1 più r2 l'abbiamo chiamato beta no sbagliato io questo è r1 questo è r2 aspettate quando è acceso solo v fa r1 diviso r1 più r2 quando è acceso solo v r viene r2 diviso r1 più r2 ok quindi se r1 diviso r1 più r2 lo chiamo beta allora vr moltiplica per 1 meno beta e poi v invece moltiplica per beta ma ti si vede bene che quando vr è uguale a 0 v più è uguale a beta v come nel caso precedente vabbè allora perché vengono diverse a questo punto le soglie è chiaro perché se v è uguale a più v0 allora v più vale 1 meno beta vr più beta v0 ma questa soglia chiamiamola v1 va bene se invece v è uguale a meno v0 allora v più verrà uguale a 1 meno beta vr vedete questa parte rimane costante e cambia di segno soltanto la parte con beta v0 quindi non è più uno l'opposto dell'altro adesso sono due tensioni diverse con modulo diverso che dipende da quanto vale vr quindi vedete cosa è successo v1 è la soglia quando ho la carica della capacità v2 è la soglia quando ho la scarica sono diverse se vr è positivo sono spostate verso l'alto per cui quando vado a fare lo studio del transitorio mi viene una cosa del genere questo viene un piccolo esercizio che già potete fare cosa posso mettere metto qua v u qui metto sia v c sia v più cosa succede se parto da 0 quindi vc uguale a 0 v uguale a più v0 la soglia vale v1 ecco rimettiamo tutte le soglie ormai avete capito com'è che funziona mettiamo le soglie si sono spostate verso l'alto e questa è v1 e questa qui è v2 non si sono spostate tutte le due verso l'alto gli asintoti v0 diciamo che sono questi più v0 ok e meno v0 quindi più v0 v1 v2 e meno v0 questo mi serve per tracciare gli esponenziali di carica e scarica e qua mettiamo di nuovo più v0 e meno v0 ok allora immaginiamo di partire bassi la soglia l'uscita vale più v0 come prima la soglia vale v1 perché la soglia con l'uscita alta a questo punto la tensione sulla capacità che è 0 tende a caricarsi e ad andare con un costante di tempo rc a raggiungere l'asintoto in questo punto c'è la commutazione va bene quindi traccia verso l'alto cosa succede in quel punto la tensione sulla capacità raggiunge la soglia e quindi l'uscita commuta quindi l'uscita da qui commuta verso il basso d'accordo quando commuta l'uscita commuta anche la soglia e va a posizionarsi sulla soglia più bassa va bene quindi l'unico tratto che effettivamente viene svolto della carica della capacità è questo fino alla commutazione che il resto è soltanto come dire ipotetico quello che avrebbe avuto la capacità se non ci fosse stata la commutazione ora però che cos'è che succede c'è la commutazione va verso il basso con la stessa costante di tempo di prima però vedete adesso se la trova molto vicina alla soglia rispetto a prima perché la commutazione si ha di nuovo semplicemente qui perché diciamo la capacità percorre praticamente soltanto il tratto percorre soltanto al tratto fino a v2 quindi qui c'è in realtà una commutazione quando commuta l'uscita commuta anche la soglia così e la capacità da scaricarsi comincia di nuovo a caricarsi di nuovo cerca di caricarsi con questo asintoto quando arriva a questo punto di nuovo c'è una commutazione vedete si vede bene adesso è molto asimmetrico il comportamento è dovuto tutta alla presenza delle soglie diverse e quindi la cosa da questo punto poi continua come prima al momento della transizione siamo esattamente nella stessa situazione di prima d'accordo quindi in pratica se spostiamo le soglie rispetto al valore che hanno che hanno il valore simmetrico noi possiamo dissimmetrizzare completamente la forma d'onda ok possiamo vedere si velocemente facciamo il conto delle due forme d'onda tanto per vedere un po' per esercizio la cosa TA TB TC adesso il periodo è questo però chiaramente questo qui lo dobbiamo chiamare T1 questo qui lo chiamano T2 e sono diversi allora per T1 dobbiamo vedere la discesa da V1 a meno V0 come asintoto e si ferma V2 facciamo il conto per T compreso tra TA e TB VC è del tipo adesso questo lo posso scrivere lo scrivo un po' più velocemente perché tanto a questo punto sappiamo come fa questo è l'andamento della curva vedete c'è l'esponenziale più la costante l'ho scritto per similitudine alla cosa che ho scritto precedentemente vedete che tornano gli estremi guardate per T che tende a infinito questo va a meno V0 quando T è uguale a TA l'esponenziale fa 1 e quindi VC fa più V1 che è quello che deve essere va bene quindi il valore dei parametri del transitorio è corretto allora al tempo TB VC vale V2 quindi a questo punto basta che sostituisca TB al posto di T e qui mi viene TB meno TA che vale esattamente per quello che abbiamo detto vale esattamente T1 T1 grande questo è meno T1 su RC meno V0 e da questa io posso ricavare T1 porto V0 da questa parte mi viene V2 più V0 diviso V1 meno V0 uguale a E alla meno T1 su RC da cui posso ricavare T1 come RC qui viene faccio logaritmo a destra e a sinistra e viene un meno quindi inverto di V1 meno V0 diviso V2 più V0 questo è un più presso l'ogaritmo ok V1 e V2 l'ho già ricavato posso sostituire l'espressione che ho ricavato prima insomma è facile da ottenere quello che eh si vabbè non mi serve ottenerlo adesso invece per T che è compreso tra TB e TC vale un'altra relazione adesso Vc ha un andamento sempre esponenziale però stavolta l'esponenziale parte da V2 e tende ad andare a V0 va bene quindi l'esponenziale sarà di questo tipo il termine noto sarà più V0 qui ci sarà T meno TB fratto RC quando T uguale a TB l'esponenziale vale 1 e quindi qui devo avere meno V2 meno V0 e questo è un modo un pochino più rapido per imporre parametri ripeto guardate tornano gli asintoti quando T è nel finito l'esponenziale va a 0 e Vc viene uguale a V0 che è il limite nell'asintoto quando T è uguale a TB il punto di partenza di questo nuovo tratto l'esponenziale vale 1 e quindi Vc vale meno vale meno V2 no invece valeva più V2 più V2 quindi qui c'è un più vedete perché ho chiamato più V2 questo non meno quindi si parte da qui all'istante TB all'istante TC vale V1 e quindi di nuovo a questo punto posso imporre Vc di T1 è uguale a V1 e quindi sostituisco mi viene V2 meno V0 per E elevato alla meno TC meno TB Tc meno TB fa T2 e quindi l'ho trovato più V0 e da questo posso ricavare come ho fatto prima V1 meno V0 fratto V2 meno V0 è uguale a E alla meno T2 fratto RC che mi dà T2 T2 viene uguale a RC per il logaritmo di V2 meno V0 diviso V1 meno V0 ok quindi ho trovato T1 ho trovato T2 posso trovare ora chiaramente il periodo completo che è la somma di due e posso anche trovare il duty cycle che è il rapporto tra l'onda positiva e il periodo questo qui in inglese si chiama duty cycle o ciclo di lavoro in generale è la frazione in un'onda tra la parte in cui l'onda è attiva cioè è alta e il periodo completo e mi dà un'idea della simmetria della cosa quando il duty cycle è un mezzo vuol dire che la semionda positiva è la metà del periodo e quando è minore di U nel disegno di prima per esempio mi sarebbe venuto maggiore di un mezzo è più lungo il tratto T2 di metà periodo d'accordo quindi chiaramente questa come vedete è una cosa che si presta bene a fare gli esercizi perché una volta impostato il circuito si può cercare di ricavare periodo frequenza eccetera eccetera bene questo è uno dei modi per assimmetrizzare ce ne sono altri abbiamo detto si può agire sugli asintoti si può agire sulle costanti di tempo e insomma se poi vedrete facciamo anche qualche esercizio insieme vedrete che sono tutti i punti in cui si può effettivamente agire e sono piccoli esercizi che vengono bene per capire come funziona più semplice dei circuiti a scatto d'accordo e ci fermiamo